La lotta alle barriere architettoniche e culturali non ha e non deve avere colore politico, non può diventare strumento di scontro politico finalizzato solo ad un semplice interesse elettorale, ma deve rappresentare un motivo di confronto per cercare concretamente e rapidamente le soluzioni, così rappresentanti delle persone con disabilità alla luce dell'incontro che si è tenuto in comune sull'osservatorio delle barriere architettoniche. I componenti, pur riconoscendo la politica, assessori e consiglieri di minoranza e maggioranza di fare la sua parte, accogliendo le proposte emerse e impegnandosi nel realizzarle, rivendicano tuttavia la piena titolarità delle proposte. Le idee arrivano da chi vive quotidianamente gli ostacoli ad una vita accessibile e nessun politico è il monito, deve metterci il cappello. Tra le proposte emerse il CUDE, Contrassegno Unificato Disabile Europei, che consente ai cittadini dotati di contrassegno di muoversi in tutti i comuni italiani ed europei senza incorrere in multe. La Disability Card è la figura dell'Accessibility Manager, un tecnico che garantisca in tempi adeguati gli interventi per la realizzazione del PEBA. Proposta anche la figura del Disability Manager, un professionista che grazie alle competenze specializzate acquisite sul campo della disabilità si proponga come interlocutore fra i bisogni delle persone disabili e vari soggetti istituzionali. Un garante delle persone con disabilità. Infine uno sportello disabilità, visto come il luogo in cui ogni cittadino con disabilità possa trovare delle risposte relative ai vari bisogni che scaturiscono dalla sua condizione.